Buongiorno a tutti, io sono Gianni Collina, dipendente del Comune di Fano, ma in questo caso, in questa occasione, il Comune di Fano mi ha assegnato già dal 1999-2000 la rappresentanza del Comune per il progetto Foresta Nera Mare Blu, è un progetto, un gemellaggio sociale con disabili nell'area della disabilità, perché sono rappresentati sia persone con disabilità che associazioni, che cooperative, che operatori del terzo settore in un incontro con giovani disabili, operatori e associazioni della città di Rastat, ma in particolare l'associazione Le Bensilfe, che appunto in italiano si traduce aiuto alla vita. Oggi, giorno 19, inizia il quindicesimo appuntamento. Cominciamo appunto, il progetto è in qualche modo principiato dal Comune tramite l'assessorato ai servizi sociali, il gruppo che cura un po' l'amministrazione e il referente amministrativo è la GFH, l'associazione del genitore di conflitto di portatore di handicap di Fano, ma il progetto ormai ha assunto una valenza cittadina e sono tante le associazioni che collaborano e le cooperative. In occasione del progetto Nero e Mare Blu abbiamo l'onore di servitare il progetto della GFH, Leonardo Caimi. Quali sono gli obiettivi di questa settimana di gemellaggio? Gli obiettivi di questa settimana di gemellaggio è far tenere i ragazzi diversamente abili della della Germania a far sentire i ragazzi a loro agio, a loro agio in modo che possano passare una settimana in allegria e in felicità perché loro piacciono sia il mare che la collina, che noi abbiamo una zona meravigliosa per fare queste cose. L'obiettivo principale è quello di riuscire a creare un clima bello, piacevole per i nostri ospiti, gli amici di Rastat e che possano godere e conoscere la nostra città, le bellezze del mare, la spiaggia, l'entroterra e soprattutto degli amici fanesi anche, sia delle associazioni che incontreranno ma anche, mi auguro, delle famiglie e delle persone che incontreranno. Quindi un momento di integrazione anche di conoscenza e di scambio tra fanesi e amici di Rastat. Quanta mole di lavoro c'è dietro a una tale iniziativa? Bene, la domanda è molto pertinente perché questa è un'iniziativa che comporta un certo lavoro proprio perché un gruppo importante si sposta da un altro paese europeo perché Fano deve riuscire ad accogliere nel migliore dei modi, quindi deve avere sia le strutture sia programmare tutti i vari appuntamenti perché la settimana sia tutta piena, sia fatta bene e sia soddisfacente per tutti. Quindi richiede un lavoro di diversi mesi però durante l'arco dell'anno c'è sempre l'attenzione alta a questa settimana. Eh beh, ce n'è abbastanza, ce n'è abbastanza di mole di lavoro perché tanto dobbiamo sempre organizzarci, ci serve sempre una che è la Simona Rabi che ci fa da traduttore, per cui te capisci che la situazione, noi siamo italiani, loro sono per cui non capiamo molto bene la lingua, per cui abbiamo bisogno di queste cose, poi dopo c'è dei problemi anche di lavoro per sistemare le entrate e le uscite, comunque ce la facciamo perché ci siamo molti collaboratori che lavoriamo tutti per fare ciò che avvenga nel migliore dei modi. Da quanto tempo ormai poterlo il rapporto d'amicizia tra Rattas e Fano? Io da 14 anni che condivido con loro questa fantastica esperienza. Ci sono altre iniziative prossime, future, oltre a tale bella proposta di questa settimana? D'intanto forse un festival della musica ma forse anche altre cose e vedremo insieme che cosa esce dal cappello durante questa settimana. Loro pensano di venire giù il prossimo, non il prossimo anno, nel 2019 con dei cori, delle orchestre, che sono delle iniziative che adesso ancora è in embrione, che praticamente però vedremo in questo anno di organizzarci per farli sempre sentire a loro agio ogni volta che vengono qua giù. Grazie per questa intervista. Grazie a voi altri, come ti dicevo prima, io sono sempre entusiasta di questo progetto, che a me piace tantissimo, dove ci sono i ragazzi, le persone che si adoperano per fare questo. È stato un piacere conoscerti, grazie dell'intervista. Quali sono le principali differenze della gestione della diversità tra le due città? Prima di tutto grazie mille per questa occasione che mi date. Sì, ci sono differenze nella gestione della disabilità tra la Germania e l'Italia. Diciamo che ognuna delle due parti ha dei lati estremamente positivi e ognuno delle due parti cerca di acquisire dall'altra questa positività e questi lati mancanti per andare a coprire se vogliamo chiamare i buchi, le piccole falle che ci sono e per andare a formare una sorta di puzzle. Noi qui in Italia siamo molto più inseriti nel sociale, quindi i nostri ragazzi con disabilità frequentano scuole assieme a tutti gli altri ragazzi, sono inseriti molto bene a livello familiare e fanno una vita sociale alquanto attiva e se posso usare questa terminologia normale. In Germania hanno invece una vita lavorativa più normale, posso dire. In Germania non esiste la pensione di disabilità, quindi ogni ragazzo disabile lavora in base alle sue capacità e alle sue possibilità naturalmente. Quindi non hanno appunto la pensione di disabilità ma percepiscono un piccolo stipendio. La LeBensilfe che è questo gruppo che si occupa degli adulti con disabilità è si può dire un'azienda a tutti gli effetti, viene gestita proprio come una vera azienda con un legale rappresentante, con degli amministratori, quindi a degli uffici e infatti molti accompagnatori di questo gruppo oggi sono proprio persone che lavorano direttamente nella LeBensilfe e vengono seguiti nella loro vita in toto e per toto per quanto riguarda appunto la quotidianità. Chi non ha più possibilità o non vuole più vivere in famiglia può vivere anche in appartamenti seguiti dai loro tutori in tutto quello che è la quotidianità e le piccole difficoltà che possono avere, quindi la gestione del denaro, le visite ai medici oppure vivono anche in alloggi protetti. Molti di loro fanno proprio una vita di coppia, quindi qualcuno si sposerà so anche ad esempio adesso è stata invitata anche a luglio ad un matrimonio ad una coppia di adulti con disabilità ed è molto bella questa cosa e questa è una cosa che sarebbe bello e magnifico poter raggiungere anche qui da noi dare un'autonomia guidata, un'autonomia seguita a questi ragazzi che se lo meritano veramente, ce ne sono molti, io sono convinta che potrebbero vivere in autonomia, seguiti nella quotidianità e avrebbero bisogno di un lavoro fatto come si deve, un lavoro giusto, corretto, equamente retribuito anche per dar loro modo di vivere la normalità. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Io sono Clara Santi e ho di diversi anni che partecipo a questo gemellaggio che si chiama Foresta Nera Mare Blu. È un'iniziativa molto interessante che fa crescere sia noi che i ragazzi, sia italiani che tedeschi, perché c'è un confronto di come si vive la diversità e la diversità in queste due città. Mi chiamo Christel Kanegis-Leitner, vengo di Rastat, sono qui con mio figlio Frank, Frank ha 28 anni e io trovo che questo progetto è una cosa, un'idea bellissima perché anche se la distanza fra Rastat e Fano è molto molto grande, è importante imparare che una comunicazione fra uomini non è soltanto possibile con parole, ma anche è possibile con i cuori e per questa causa ci sono molte amicizie fra noi, fra le persone tedesche, fra le persone italiane e io penso che questa è un'amicizia per tutta la vita di noi e per questa causa penso che il progetto è una cosa bellissima. Salve, mi chiamo Caterina Butitta, lavoro da un paio di anni presso le pensilfe di Rastat e niente, questa è la prima volta che vengo a Fano, che collaboro in questo progetto e mi sono messa a disposizione appunto per accompagnare il gruppo di Rastat e niente, questo lo vedo uno scambio molto bello perché è uno scambio sia sociale che culturale. I nostri ragazzi appunto crescono fra di loro e quindi hanno una buona cooperazione nel frattempo e non dobbiamo dimenticarci chi prima di noi ha potuto fare in modo che questo progetto andasse avanti. In questo caso non abbiamo Carosa ma comunque lo ringraziamo nel frattempo perché è stato lui che ha messo le mani in tutto e quindi che ha messo tanta forza, tanta pazienza in questo progetto. Consigliate questa esperienza anche in altre città? Io penso che questa esperienza dovrebbe essere motivata in altre città e portata avanti in altre città. Tutto dipende dalle persone che si mettono appunto a disposizione e che collaborano in questi progetti. Diciamo che dovrebbe essere umanamente possibile in tutto e non ci vuole, ci vuole soltanto un po' di impegno e portarlo avanti. Grazie a tutti!